I residenti la chiedevano da tanto tempo e oggi, grazie a un accordo in via di conclusione tra il Comune di Fano e la provincia di Pesero e Urbino, verrà realizzata una rotatoria affenile nell'intersezione tra la Provinciale 45 e Via del Mulino. Assessore, come è nato questo progetto? Questo progetto è nato grazie alla provincia che ha accolto le nostre richieste della nostra amministrazione, aveva individuato questo incrocio come molto pericoloso, sono avvenuti anche degli incidenti gravi. Ha accolto quindi le nostre richieste di intervento e ha inserito la rotatoria nel piano trennale delle opere pubbliche della provincia. Hanno ottenuto un finanziamento di circa 87 mila euro dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Quindi è nata questa progettazione, grazie alla quale realizzeremo una rotatoria. Come vedete alle mie spalle, alla fine della ciclabile Fano-Fenile, verrà realizzata una rotatoria che quasi esclusivamente rimarrà sul sedime stradale, quindi non andremo ad allargarci rispetto a quello che vediamo oggi nell'incrocio spartitraffico. E allungheremo anche la ciclabile verso il centro commerciale, quindi faremo anche circa 60 metri di protezione a livello pedonale e ciclabile accanto alla strada provinciale. Anche il Comune comunque stanzierà delle risorse? Il Comune parteciperà nella realizzazione, quindi 87 mila euro la provincia e 138 sarà finanziato dal Comune per un totale di 225 mila euro. Il progetto è stato redatto dall'architetto Mauro Gilli della provincia. Ringraziamo anche il dirigente del servizio viabilità e trasporti della provincia, l'ingegnere Mario Primavera. L'intervento è stato progettato e verrà realizzato interamente dalla provincia che ci ha garantito che appalterà entro l'anno se riusciamo a iniziare anche i lavori entro la fine di quest'anno.